3, 2, 1... Escia! Sono qui! Sono qui! Uh, solo un secondo. Riprendo fiato. In un tempo lontano sorgeva Rosas, un magico regno incantato, fondato da un re con il potere di esaudire i sogni. Tu sei il loro bellissimo e amato re. È vero. Sono un bellissimo re. Sono così nervosa che ora esplodo. La mia amica del cuore, apprendista del re. Mi cade la bocca. Non mi senza la mandibola. Ascia, seguimi. I sogni di Rosas. Il popolo mi affida ogni desiderio e io esaudisco quelli che non mettono a rischio Rosas. Quindi alcuni non verranno mai esauditi? Non alcuni, molti. Tutti però meritano... Io decido che cosa meritano. Ogni stella splende per guidarmi Io vorrei dar ascolto a quel che mi dirà. Tu ci vizi con la tua magia. Non sono stato io. Cosa? Ieri ho espresso un desiderio a una stella. E la stella ha risposto. Io parlo. Io parlo. Caspita, che voce sua dente. Forse sono pittima di un complotto. Chi mai lo farebbe? Non ho risposte in merito. Ogni stella splende. C'è un traditore in mezzo a noi. Trovate Ascia! Trova quel che mi... È un piccolo cieco. Con porta di mogano grezzo. Bella scoperta, Valentino. Un colpo di chiappa. È iniziata con me e con me deve finire. Un sogno splende in me. Che cosa nascondi? Niente. L'età va vissuta! E nessuno. Che cosa succede qui? Ok, manciulle! Con quelle ali non si vola, ma con le vostre voci sì! Ha, 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 ha!